Aperitivi creativi, cocktail speciali, cene sotto le stelle e tanta musica negli angoli più suggestivi del centro storico di Fano. Domani, 14 luglio, si rinnova l'appuntamento con il mercoledì degli artisti, iniziativa promossa dall'assessorato al turismo nell'ambito di Fano en plein air. Si parte dalle 19 alle 21 in piazza 20 Settembre, all'ideale food and more con Klimt, un aperitivo denominato a pennello, dipinge una serata divertente. Alla Mandria di Viale Buozzi si accenderanno di nuovo i fuochi dell'antico bracere per una cena gustosa tra le vestigia romane, musica live in collaborazione con On Stage Produzioni. Come tutti i mercoledì faremo musica e la cena con il bracere della Mandria, l'antico bracere romano. Le ospiti di domani sera saranno le Rimmel, le cinque ragazze che suonano e cantano un genere rock and roll e avremo anche la diretta Facebook domani sera di tutta la serata. Al Curcuma Cafè di Piazza Costanzi invece dalle 20 e 30 si potranno gustare cocktail speciali sotto le stelle con il piacevole accompagnamento musicale di Roberto Aiuti, sax tenore. Un palco anche in piazza Andrea Costa, chi animerà la serata per il Senzatempo? E domani avremo un duo guidato da Luca Orsini e sarà un artista principalmente che sposa il pop e quindi chitarra, basso e un pedale che suonerà una cassa e niente è un racconta storie e divulga insomma le emozioni che si vedono nella quotidianità. Da che ora? E lo spettacolo inizierà intorno alle 22 e 30 come tutti i nostri mercoledì. Invece in piazza 20 Settembre alle 21 e 15 al Bardanne di Gusteria e al 20.9 Caffè si potrà ascoltare la musica dei Santi Burattini Placidi tra Gospel e Soul che spazia tra Arita Franklin e da James, Stevie Wonder e Ray Charles fino ai Blues Brothers. Caterina Di Placido è la voce nera della formazione accompagnata da Ricky Bia alle tastiere e Jacopo Santini alla batteria, il tutto in collaborazione con Sara Angherà, tanta buona musica anche al Mona Lisa al Pincio di Fano. Partiamo da domani con i Radice Cubica che è una band pop rock con tutti i pezzi iscritti da loro e saranno accompagnati per questa occasione da Raffaella Piarattoni che è un altro artista emergente che sta facendo uscire il suo singolo per nessuno e che uscirà a breve. E per gli altri mercoledì andremo avanti con la Baga Band, con Cosimo in The Hot Calls che è una band che fa swing e anche ad agosto ci saranno tanti ospiti sia locali che non per tutti i generi. Quindi vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 8.30 per godervi questo spettacolo di intrattenimento musicale accompagnato dalla nostra cena, dai nostri piatti e da questa cornice fantastica che è il Pincio di Fano. Non vi rimane altro che rilassarvi e godervi lo spettacolo, vi aspettiamo numerosi. Oh 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 Grazie a tutti.